Utenzil Dodi è specializzata nella distribuzione e nel commercio di utensileria meccanica, articoli tecnici industriali, cuscinetti volventi e lugro refrigeranti. I prodotti sono realizzati con materiali di eccellente qualità e sono il frutto di attenti studi di settore. La sede è dotata delle più moderne tecnologie per stoccare tutto il materiale e renderlo disponibile alle spedizioni in tempi brevi. La gestione delle merci è affidata infatti a sistemi elettronici con magazzini automatici verticali, così da garantire consegni puntuali e tempestive. Lo staff banta una pluriennale esperienza nel settore ed è in grado di soddisfare le esigenze di un mercato sempre più tecnico e complesso. L'azienda si occupa inoltre di arredamenti industriali, attrezzature e sollevamento, antinfortunistica, prodotti chimici industriali. Utenzil Dodi. Dal 1962 investiamo nella soddisfazione di ogni cliente. L'azienda si occupa inoltre di arredamenti industriali, attrezzature e sollevamento, antinfortunistica, prodotti chimici di un mercato. L'azienda si occupa inoltre di arredamenti industriali, attrezzature e sollevamento, antinfortunistica, prodotti chimici di un mercato.